Si sta per chiudere una storia secolare. L'ospedale San Salvatore non sarà più il centro medico di riferimento della città di Pesaro e della provincia di Pesaro e Urbino. Un destino che era noto da mesi ma che da ieri ha designato ufficialmente una nuova struttura di edilizia ospedaliera. Sorgerà qui il nuovo ospedale di Pesaro sul sito dell'attuale struttura di Muraglia una scelta arrivata dopo la relazione finale prodotta dai tecnici designati tra Regione Marche e Comune di Pesaro che ha valutato vari parametri nel definire questa la scelta più appropriata per il nuovo ospedale preferendola a quella di case bruciate. Muraglia è stata preferita dai tecnici per qualità e funzionalità sanitaria e per sostenibilità ambientale e urbanistica in un'azione che in dieci giorni ha dato un'accelerata rispetto a dieci anni di marcia singhiozzo e retromarce sul futuro dell'edilizia ospedaliera territoriale. Da ultima la revoca del project financing sull'ospedale unico e l'addio a un progetto da 600 posti letto. Naturalmente ci si chiede come sarà il nuovo ospedale di Pesaro che sorgerà su questo sito di Muraglia. L'obiettivo dichiarato è quello di una struttura da realizzare con 372 posti letto su una superficie di 42.000 metri e quadrati estendibili a 48.000 includendo un allargamento sulle aree già esistenti del polo oncologico di radioterapia e di ematologia. Considerando il tipo di terreno e di spazi di ampliamento quella di Muraglia sarà probabilmente una struttura che si svilupperà molto in verticale sicuramente molto più di quanto si sarebbe realizzato sul terreno vergine di case bruciate quello che le associazioni ambientaliste avrebbero preferito in una logica di edilizia molto meno impattante. La carta che case bruciate poteva giocarsi era quella dei costi ridotti di realizzazione stimati in 140 milioni di euro ma l'iniziale previsione di investimento di 170 milioni di Muraglia è stata ricalibrata dal comitato tecnico a 150 milioni attraverso uno studio di ottimizzazione di risorse. Si è dunque chiusa la partita sulla scelta del sito una scelta dalla gestazione lunga e davvero travagliata non meno intricata però sarà la modalità di realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia a cominciare dai tempi attualmente molto nebulosi e poi ci sono altre incognite da chiarire una di queste è il futuro dell'ospedale San Salvatore di Pesaro quale destinazione d'uso avrà, quali servizi verranno conservati, quali trasferiti e quali invece modificati.